Alessandro Ciolfi, capitano della Balduina, dopo la vittoria per 2-1 contro l'Union FB nella seconda giornata di Super Champions Elite. Vittoria sofferta inaspettatamente per quello che si è visto durante la maggior parte della gara. Sì, è stata una partita più difficile di quello che si è visto, perché è stato difficile controllare il gioco per l'umidità del campo. Già dall'inizio della partita è stato difficile fare il primo controllo, però comunque ci siamo mossi bene, non abbiamo mai mollato. Abbiamo fatto anche due bei gol da fuori e alla fine ci siamo dovuti chiudere un po' verso la fine, perché acquisiamo un po' la stanchezza e facciamo tre competizioni diverse quest'anno. Però siamo molto contenti e fieri del risultato. Avete pescato il jolly, infatti con due gol quasi uguali praticamente, due tiri dalla distanza che si sono insaccati sotto l'incrocio. Sono stati episodi del momento oppure avevate magari preparato la partita provando a tirare anche da fuori? È una vostra prerogativa o è dipesa dal tipo di partita? Diciamo a dipesa un po' dal tipo di partita, proprio perché è stato difficile fare gli scambi. Insomma, le soluzioni si trovano così, puntando l'uomo e tirando da fuori. E ci è andata bene entrambe le volte.